Passerella d'eccezione per i giovani talenti dell'enogastronomia di Campania, Sicilia, Puglia, Basilicata, Calabria, Abruzzo, Molise e Lazio all'Istituto San Paolo di Sorrento. Si è svolto il concorso interregionale di cucina promosso dalla scuola con il patrocino organizzativo del maestro Enrico Cosentino, promotore del concorso riservato agli allievi del quarto e quinto anno degli istituti professionali articolazione enogastronomia. Primo classificato l'Istituto Gioberti di Roma, secondo posto per il Turi di Matera, terzo per il De Gennaro di Vico e Quenze. Al concorso hanno partecipato anche l'Istituto D'Agnillo di Agnone di Isernia, il Perotti di Bari, quello di Villa San Giovanni in provincia di Reggio Calabria, il Gasperrini di Melfi, il Viviani di Castellammare e l'Istituto di Savoia di Napoli. Le loro proposte focalizzate sul tema del concorso, a tavola con lo scialatiello di Enrico Cosentino tra tradizione e innovazione. Questa invenzione nasce nell'aprile del 1976, però ci ho messo quasi sei mesi per farlo diventare così, perché non piacevano al sottoscritto. Dopodiché con i dovuti cambiamenti siamo arrivati a questo formato e il nome. Essendo un insegnante di scuola, i ragazzi poi l'hanno portato in giro per tutto il mondo, come infatti viene prodotto da 470 pastifici a livello italiano. È l'unico piatto che è diventato campano, è l'unico piatto di pasta fresca che abbiamo in campano, riconosciuto anche dal Ministero delle Politiche Agricole. Gli studenti selezionati hanno preparato e presentato un primo piatto che ha reinterpretato i famosi scialatielli, abbinandoli a prodotti stagionali tipici della propria regione. La dirigente del San Paolo, Amalia Mascolo. La competizione sana fa piacere e poi mi piace vedere i ragazzi che sono due settimane, che si prodigano. Io li ho assecondati, li ho incoraggiati, però li vedevo molto molto motivati. In serata la cena di gala e le premiazioni, alla presenza del sindaco di Sorrento Massimo Coppola, l'assessore all'istruzione della regione Campania, Lucia Fortini. Oltre alle nostre bellezze paesaggistiche, al nostro grande patrimonio artistico e culturale, la grandezza della nostra enogastronomia si è ritagliata a uno spazio sempre crescente e rappresenta il nostro territorio nel mondo. Sicuramente un veicolo per esportare i nostri colori, i nostri sapori e la nostra identità nel mondo. Credo che questo istituto abbia fatto davvero qualcosa di importante, perché i nostri ragazzi devono sfidarsi, perché la scuola deve aprirsi al territorio, anche alla competizione quando è una competizione costruttiva. Grazie.